Se volete acquistare crediti fifa a basso prezzo andate su fifaultimatingcoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella vecchi trapani per trovare qui sul canale di GRAN E oggi si comincia con Corea Va bene, va bene Oggi comincia una nuova stagione Nuova quarta divisione E dobbiamo cominciare col botto Perché se questo è arrivato in quarta qua a Corea ci sarà un motivo Tutti strappagati E se c'è arrivato qua a Bundesliga e poi si è fatto la Corea Non c'è nessuna cosa E se poi c'è 5 volte Comunque a Corea, perché figa Troppo bello, se ne vanno bene Sti cazzi, se ne vanno bene Basta Namu così E' stato reale forte Eccolo, non è vero Olè, 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 olè Primo gol per la Corea Parire, questa squadra Va un po' vorrei Uuuuh Oh, vai nel fella Oh, ma porca Grande, meno male che non l'ha passata Perché mi ha fatto tornare indietro, vaffanculo Me ne sta da andare per i miei prati Eh, perché pensavo fosse da solo, invece niente Dai, ma che è? Perché non l'ho fatto di lì? Tira aspetta è una voli troppo droga ma no perché da là come faccio a tirare un tiro in precisione ma fa schifo il tiro in precisione è normale che entro dentro e ti dà passo poi tra l'altro sei rotto vedi cosse cosse vederò cosse vederò cosse vederò cavolo cazzo passato che ha fatto cazzo in mezzo se stegno di testa me ne vado me ne vado me ne vado l'unico l'unico in pericolazione della tua laurea roba c'è un contratto segreto non si vengono verso il pallone o no se non troppo perfino in questo questo immobile ma che cazzo di risalzare un uomo perchè? fatti vedere in mezzo alzo, in mezzo leva ma chi era? mamma mia è tutto brutto ah grazie eh, uno eh uno almeno ce l'ha fischiato mamma mia ma c'è quello di ripresti che non ho più oh oh eh però un fallo eh c'è uno ma uno soltanto l'ammo di vita cioè non è che chissà quanti vene di vita cazzo perchè non vieni dentro perchè non vieni dentro, mi dici dai 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 qui ne avevo tempo ma come farlo questo? siamo pronti, siamo pronti se si espliga e cuoriamo eh, eh, ha presunti veloci però non si espliga che cazzo fa no dai dai dobbiamo vincere, possiamo fare già questo partito vai no perchè un caldo oggi è andato giù, adesso stava giù vedete chi è andato addosso ma tutti ti hanno un contro tempo sono addosso va bene oh parca puttana, voglio sentite farla se signano magari se signano magari ho diventato una squadra dei fenomeni proprio questa vabbè dai giusto no chiunque attiene ovviamente non si dà insidore mi cazzo fatemi a farmi da che culo non è possibile la sfiga e corcocane 82esimo cazzo non sbrigassi che si compresenta parte se non può passare 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 non è vero il signore dava avanti gli avanti stavolta disegnano un po' di gioco ma ora c'è lei che pudo fa molto ma se io la passo dalla ma io so quello che non può succedere ovvero che sta di fermo che cazzo cercare fanno e io la più di quello non potevo fare che sennò non fare gioco non te la devo passa subito quella cosa tu vai avanti quello che viene verso di me rimani fermo poi almeno guadagni campo non ci fanno da ma queste queste veramente lo scritto del cazzo cioè se questo non è lo scritto è questo dimmi quale è dai porco cani ma affanculo non mi fai più eh porco tu partita bomba bel saccazzo bel saccazzo non è possibile oh non ci voglio crede qua non ci voglio crede qua ma è stato un velino assurdo qua siete con domani bello bello bello